4.000 metri quadri, questa è la superficie della casa patronale abusiva riconducibile a Ferruccio Casamonica, sgomberata e abbattuta stamattina a Roma. Proprio due anni dopo, in maxi blitz al quartiere Quadraro, 50 agenti della polizia locale insieme ai militari del comando provinciale dei carabinieri e agli agenti del reparto mobile della polizia, sono intervenuti in zona Grotte di Gregna, periferia sud-est della capitale, al confine con il comune di Ciampino. Il complesso era una roccaforte del clan di origine Sinti dedito a usura, racket e traffico di droga. Sei case erano state date in affitto, mentre la più grande, arredata nello stile tipico delle famiglie nomadi, era ad uso del capostipite Ferruccio e della moglie Dolores Sara Spada, proveniente dall'altro potente clan della capitale. Oltre agli appartamenti, che erano di fatto vere e proprie ville, nel complesso c'era una piscina di 50 metri quadri. In base al vigente piano regolatore sull'area, esisteva anche un vincolo di non edificabilità e uno archeologico istituito il 2 febbraio del 1999. Il primo rilievo dell'abuso edilizio era arrivato ben 38 anni fa, ma i provvedimenti di abbattimento e acquisizione al patrimonio capitolino erano stati emessi e revocati più volte per presunti errori per tutti gli anni 2000.